Amici di Cariati Vacanze al Mare, continuiamo la nostra serie di interviste con il Vicesindaco al Comune di Cariati, l'Avvocato Leonardo Montesanto. Ci incontriamo con l'Avvocato per riprendere un argomento che è stato trattato un po' di giorni fa con un articolo sul nostro sito in cui si parlava in pratica dello stipendio, delle spettanze dei dipendenti comunali o meglio dei nostri assessori che è il sindaco che percepiscono regolarmente a dispetto dei dipendenti comunali che invece erano da un po' di mesi senza stipendio. Questo argomento è stato trattato anche in una nostra intervista video, è sempre l'intervista di Cariati Vacanze al Mare al consigliere di opposizione Francesco Cosentino il quale con carte alle mani, e questo noi lo possiamo anche dimostrare, ci aveva un estratto conto del Comune di Cariati in cui si dimostrava che effettivamente questi importi sono stati riversati sui vostri conto correnti. Il vice sindaco è qui per precisare i periodi che sono stati corrisposti, che vanno indietro nel tempo e non sono gli ultimi di quelli che voi avanzate dalle casse del Comune. Ecco, Leonardo, non mi dilungo io, vuoi partire con le tue precisazioni? Sì, intanto saluto tutti gli amici di Cariati Vacanze al Mare e ti ringrazio Cataldo per avermi dato questa possibilità di poter replicare a quanto falsamente è stato detto, sia a dire la verità, era stato già riferito dal consigliere di minoranza Francesco Cosentino in un consiglio comunale e poi ho visto che, ahimè, è stato riportato sulla stampa, sul tuo sito anche su un quotidiano locale. La cosa che mi amareggia, a dire il vero, è che chi afferma che noi con puntualità svizzera veniamo mese per mese pagati, quindi con questa regolarità, per quelle che sono le nostre indemnità di funzioni, la cosa mi amareggia moltissimo perché viene detta da un consigliere di opposizione che tra l'altro sono sicuro che è un ottimo professionista, però ho i miei dubbi se le carte le legge solo a metà oppure se è in malafede quando fa certe affermazioni. Questo perché lo dico? Perché già in quella seduta del consiglio comunale ho cercato di spiegare al consigliere di opposizione che quello che lui affermava, sostenendo che noi regolarmente veniamo a discapito dei dipendenti comunali pagati regolarmente, io già cercavo di sostenere che non era così perché sono mesi che noi non ci paghiamo l'indennità di funzione. Detto fatto, tanto è vero che io mi sono pure documentato e ti ho portato un'attestazione del dirigente del comune di Cariati, dove in data 25 marzo 2013 praticamente facevo una richiesta per l'attestazione di quelle che erano le mie indemnità di funzione che alla data del 25 marzo 2013 ancora non mi erano state corrisposte. L'ufficio mi risponde il 15 aprile 2013 e nel documento che ti ho portato anche una copia, testualmente mi viene detto dal dirigente Bruno Morisse Guarascio che Leonardo Montesanto in qualità di vice sindaco del comune di Cariati ha percepito per intendità di funzione l'importo complessivo di Euro 11.00522,59 di cui 11.057 per intendità di funzione e 4.65 per missione. Si attesta inoltre che a tutt'oggi lo stesso vanta un credito per intendità di funzione pari a 16.151,72. Tengo a precisare che in questo conteggio ancora l'ufficio, perché mi ha legato anche le mensilità che ancora non mi sono state corrisposte, si ferma al marzo 2013, quindi a queste 16.151,72 vanno aggiunti ancora il mese di aprile e il mese sicuramente di maggio. Con questo cosa voglio dire? Che sono 14,13, con il mese di aprile sono 14 mensilità dove io personalmente non percepisco l'intendità di funzione. A maggio, a dire il vero, a giugno scattano i 24 mesi, quindi basta fare un semplice conto per capire un po' qual è la puntualità con la quale noi veniamo pagati. E ti posso confermare, Catalu, che io sono in questa situazione e nella medesima situazione si trovano sia l'assessore Donnici che l'assessore Rizzo, anche se l'assessore Rizzo è subentrato da poco, ma ti posso confermare che anche l'assessore Sergio Salvati ci sono dei mesi di arretrati, ma siccome l'ho visto con i miei occhi posso confermare, poi questo sicuramente lo dirà anche il sindaco Filippo Sero, che loro addirittura percepiscono, cioè il comune deve pagare loro ancora delle indennità di funzione addirittura del vecchio mandato riferitosi. Probabilmente sarà successo che la data dell'operazione Bangari è stata intesa come data del pagamento del periodo corrente, così non è, perché stiamo capendo bene, forse questi soldi che voi avete percepito si riferiscono addirittura al 2011. Ma guarda, io quello che posso dire è questo, che per quanto riguarda le date che vengono riportate nell'articolo dove effettivamente il 19 febbraio la banca ha disposto un pagamento di indennità di funzione, l'operazione è stata fatta effettivamente a febbraio come poi ce n'è stato un altro a marzo che si riferiva all'indennità di funzione del mese Ma parliamo di data di operazione Bangari? Noi parliamo di data di operazione Bangari Il periodo di riferimento? Il periodo di riferimento, ecco su questo voglio dire due parole Non è quello? Voglio dire due parole, che il periodo di riferimento noi lo chiamiamo ottobre o novembre 2011 o lo vogliamo chiamare gennaio o febbraio 2013, alla fine poco conta perché il risultato finale è che io ad oggi sono 14 mensilità al mese di aprile che ancora non ho percepito l'indennità e ti posso pure dire perché non l'ho percepita, perché molte volte quanto arrivano le risorse da indennità da trasferimenti da parte dello Stato oppure abbiamo qualche incasso dovuto, tipo ultimamente come c'era stato un po' di tempo fa pagamento IMU o altre entrate da parte del Comune noi molte volte, è riscontrabile documentalmente, noi preferiamo pagare qualche creditore o dipendenti comunali anziché andare a preferire a questi creditori quelle che sono le nostre legittime indennità di funzione. Io prima avevo fatto una premessa, cioè è quello che fin quando lo scrive un giornalista perché apprende può essere indotto anche nell'errore che va a leggere che effettivamente in una riversale della banca va a leggere che gennaio e febbraio gli assessori sono stati pagati, ma quando lo fa uno che dovrebbe essere un operatore, uno che dovrebbe leggersi le carte dall'inizio alla fine, mi viene il dubbio se le legge in maniera superficiale oppure se è in malafede, perché prendere delle cantonate così grosse in un momento in cui ci troviamo in una crisi profonda, una crisi economica che non ha precedenti, si vuole creare solamente odio tra le persone, contrapposizione personale, cioè si fa di tutto per far inveire le persone, i dipendenti comunali, quelli che sono i creditori nei confronti di noi, amministratori volendo fare passare un messaggio del tutto distorto da quello che è la realtà, questo non è fare politica, questo è solamente mettere odio in un momento così difficile dove bisogna superare questo momento, però ci vuole l'aiuto di tutti, ci vuole non una contrapposizione, ma bisogna un po' stemperare gli animi perché il momento è difficile, è particolare, però Cataldo guarda, mi dispiace che non ho portato altra documentazione perché mi andava in questa seduta replicare a questa falsa notizia, però ti posso garantire, per quanto riguarda il mio sito ci terrei a precisare che noi siamo un sito di servizio per l'informazione, ci giungono le notizie e quale sito pienamente democratico, in democrazia noi lasciamo passare l'informazione senza voler diffamare nessuno, poi ecco, così come nell'intervista del Cosentino ci hanno state mostrate delle carte dove si attestava il pagamento, noi oggi stiamo mostrando le vostre che rigettano tutto quanto è stato detto, il nostro compito si limita a fare l'informazione in modo uguale. Io ho capito benissimo e ti ringrazio ancora una volta di avermi dato questa possibilità. Ecco, difatti noi stasera non intendiamo questo incontro come un diritto di replica ma come un incontro con la stessa serenità che ci ha visto sempre dialogare ed affrontare Io con molta serenità Cataldo perché non ho nulla da nascondere, ti ho fatto una premessa prima, fin quanto le notizie vengono date da un giornalista che può leggere le carte a metà o perché non è competente o perché vuole fare veicolare un determinato messaggio, ci può pure stare, ma quanto delle notizie vengono date da un consigliere di opposizione che tra l'altro questa è in materia sua, mi viene il dubbio se lo dice perché vuole metterci contro le persone o perché non si è andato a leggere le carte, ma perché ti voglio dire un'altra cosa, mentre noi stiamo mettendo a nudo, io ti invito anche di pubblicarla questa attestazione che mi è stata rilasciata dal dirigente, però caro Cataldo, io una cosa la voglio dire all'amico Francesco Cosentino dell'opposizione perché oggi loro sono diventati i moralizzatori di Cariati, però voglio dire con la stessa limpidezza e franchezza che io oggi sto dicendo queste cose, io credo che chi abbia lavorato come dirigente alla Regione Calabria nella controllo di gestione dell'Arsa, vorrei capire qual è il concorso che è stato fatto per assurgere alla carica di dirigente del 2010, dica ai suoi elettori, visto che siamo in tema di trasparenza, qual era la sua intendità di funzione, la pubblichi no? Per rendere conto anche gli elettori, capire oggi che fa parte dell'assessorato dell'onorevole Trematerra qual è l'intendità che lui percepisce e la pubblicasse, siamo in un momento di restrittezza, ma quelli sono soldi pubblici, sono anche i soldi nostri, come noi stiamo mettendo a nudo quello che è il nostro lavoro, io ritengo che chi lavora deve percepire legittimamente questa intendità di funzione, lo facciano pure loro, non è questo clima di odio e di contrapposizione personale che risolve oggi i problemi del Comune di Cariati, i problemi del Comune di Cariati se si vogliono superare, ci vuole un confronto, la contrapposizione sì, ma quanto voglio dire è produttiva o può portare a dei risultati, invece qui sta verificando Cataldo da quando noi siamo insediati al Comune, ci stanno provando in tutti i modi, con le denunce alla Procura della Repubblica, con le denunce alla Corte dei Conti, con lettere che tutti i giorni vengono mandate al Prefetto, adesso ci vogliono mettere i dipendenti comunali contro, facendo queste affermazioni gratuite e diffamatorie nei nostri confronti. Dopo questo tuo intervento penso che sia stato chiarito il tutto. Sì, è stato chiarito il tutto, però Cataldo guarda, io mi sono stufato ogni volta di essere attaccato a rispondere solo a me, perché chi oggi vuole fare il moralizzatore nei nostri confronti, perché poi bisogna andare oltre anche se non sono la persona che vuole fare certe affermazioni. Cioè non è possibile che devo essere io additato come quello che percepisce l'indennità di funzione da parte di persone che, vorrei capire il giornalista fino all'altro giorno qual era il lavoro che svolgeva, come mai è stato licenziato in dronco. Sono queste le cose che mi danno fastidio. Chi oggi vuole fare il moralizzatore nei nostri confronti non ha nessun titolo e nessuna carta per poterlo fare. Perché non vanno a prendere quando io ho rinunciato a 3.000 euro di compenso che mi aspettava come fiduciario dell'ente legale quando è stata fatta una causa, come io fiduciario dell'ente del comune quando ancora non ero amministratore. Sai cosa è successo? Lì non lo dice nessuno, caro Pataldo. In una delibera di giunta dove si era appena da poco dimesso l'assessore Sergio Salvati, io mi sono visto approvare in giunta un equilibrio di bilancio dove era stata riportata anche una somma che io avevo presentato all'ufficio tempo addietro, quanto ripeto non era ancora amministratore, una parcella approvata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano per 3.000 euro. Questo venerdì, adesso non ricordo la data ma ti farò avere anche la mia rinuncia e ti prego poi di pubblicarla. Parliamo di venerdì, adesso non ricordo le dati, lunedì successivo di mio pugno ho fatto una rinuncia a quelle 3.000 euro, caro Pataldo, proprio per non dare abito al fatto che si poteva dire poi che era andato in giunta ad approvare delle somme di mia aspettanza, quando io non andavo a riconoscere il debito fuori bilancio, ma si trattava solamente di un equilibrio di bilancio di somme che l'ufficio aveva proposto di deliberare in giunta, però di questo non ne parla nessuno. Si parla molto di spendi review, ma io credo che la spendi review noi da quando ci siamo insediati, noi l'abbiamo già subito messo in opera. Ti faccio degli esempi banali. Edificio di via stabilimento, noi abbiamo distinto il contratto nel 2012, praticamente erano 1.500 euro al mese che il comune pagava, è stata i cariatesi 2012, l'abbiamo fatta con una spesa di 1.000 euro, una spesa di 1.000 euro che era un contributo della provincia, quindi non erano nemmeno soldi che il comune ha dovuto pagare. Pulizia a spiaggia, se ricordi bene tutti gli anni venivano presi dai 25 ai 30, se non 40, nemmeno mi ricordo ragazzi che erano addetti alla pulizia della spiaggia. Non lo stiamo facendo più e di questi potrei fare tanti altri esempi di riduzione della spesa che noi stiamo facendo, però non se ne parla mai Cataldo. Ci possiamo rinnovare l'appuntamento ad una prossima volta per approfondire questi argomenti che certamente sono molto interessanti e che la gente si vuole sentir dire qualcosa a tal riguardo. Quest'oggi è stato già sufficiente l'argomento che abbiamo trattato di precisazione per quanto riguardava quell'articolo uscito sul nostro sito, per cui io intanto ti ringrazio ancora una volta per la tua presenza e alla prossima. Ti ringrazio.